Ciao, sono la dottoressa Maria Guerriero. Oggi parliamo di dimagrimento, dato che la prova costume è ormai alle porte e quindi ci si chiede cosa bisogna fare oppure cosa non fare per perdere peso più in fretta. Sono qui appunto per darti alcuni consigli. Innanzitutto cerca di camminare tutti i giorni per almeno 40 minuti. Ovviamente se non hai il tempo di andare in palestra, che sarebbe meglio. In ogni caso cerca di fare attività fisica, anche quella più semplice. Quindi cerca di fare per esempio le commissioni a piedi, fai le scale anziché utilizzare l'ascensore. Cerca di muoverti il più possibile. Poi cerca di evitare di saltare i pasti, perché contrariamente a quello che puoi pensare, saltare i pasti non ti agevola, quindi non ti aiuta a perdere peso, anzi al contrario. Devi fare mediamente 5 pasti al giorno, quindi una colazione, uno spuntino, il pranzo, uno spuntino e la cena. Poi cerca di non bere alcolici e non bere bevande zuccherate. Bevi invece tanta acqua, che ti consente proprio di drenare i liquidi in eccesso. Cerca di consumare tanta frutta e verdura, prediligendo quella che ha attività antiossidanti, o per esempio i finocchi, che ti aiutano proprio a eliminare e a drenare i liquidi in eccesso. Cerca di consumare anche mediamente due porzioni di frutta al giorno, evitando quella troppo zuccherata. Spero che questi consigli potrai trovarli utili e ricorda che la farmacia di Nardos accuore il tuo benessere.